Appaiono commossi questi eroi della domenica, sentono già la responsabilità del titolo. Foto tipo famiglia con loro Bernardini e parole di elogio e doni a ricordo di questa gran giornata. E rispondono subito appieno all'attesa del loro pubblico. Azione da sinistra, gol! Poco dopo la Fiorentina raddoppia. E a un gol anziale risponde un voli dei ripini, 3 a 1. Non basta, ecco Giolino in azione che dà Virgili, gol! E 4! Il campo subisce la più pacifica delle invasioni. I fiorentini vorrebbero tutti abbracciare i loro ragazzi e li serrano da presso. Li sollevano in alto il trionfo e l'apoteosi in viola.